Ma con l'elicottero? Non c'è? Addio Cesar La buonca La buonca Che disastro Che disastro Va a calval punto La buonca La buonca La buonca La buonca Da buonca La buonca Il persona Allora E' un'epil Irma D'andrea 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 Di a vituto Vistande V**** V**** e metto le fondole ah, la lei sta allendo e non è un nuovo negozio, è un casino non è un altro uomo, è un altro uomo non è un altro uomo, è un altro uomo no, non è andato a sovrindare il mattino e tre